L'Inter del presidente Beppe Marotta si prepara a dire definitivamente addio ad uno dei giovani talenti. Si tratta di Sebastiano Esposito, che dopo tante avventure in prestito, sembra aver trovato la sua dimensione naturale alla corte dell'Empoli. L'ottima prima parte di stagione del promettente centravanti italiano, infatti, starebbe spingendo la società toscana del presidente Fabrizio Corsi di assumere una posizione ben precisa. Quella che sta vivendo Sebastiano Esposito è sin qui una stagione idillica e carica di aspettative. Dopo tutta la trafila nel settore giovanile dell'Inter e le avventure in prestito con Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht, Bari e Sampdoria, il calciatore classe 2002 di Castellammare di Stabia pare abbia trovato il suo habitat naturale all'Empoli. L'attaccante campano sta esprimendo un ottimo calcio, facendo capire a tutti quelle che sono le sue reali potenzialità. Sebastiano Esposito è diventato uno dei leader della squadra di Roberto D'Aversa, come dimostra anche l'ultima sfida di Coppa Italia affrontata dall'Empoli. Il calciatore campano si è caricato la squadra sulle spalle, trascinandola verso la qualificazione ai quarti con un gol nei tempi regolamentari e una rete alla lotteria dei rigori. Il giocatore di proprietà dei Nerazzurri si è ancora una volta confermato infallibile dagli 11 metri e lo certifica in maniera evidente un dato particolare, 20 su 20 dal dischetto. Al momento, il bottino stagionale di Sebastiano Esposito è a quota a 4 gol e 2 assist. Il giovane calciatore sta vivendo un momento di grande forma e questo starebbe inducendo l'Empoli a prendere una posizione molto chiara. Secondo il quotidiano TuttoSport, la società azzura sarebbe sempre più orientata ad esercitare l'opzione di riscatto da 5 milioni di euro presente nell'accordo con l'Inter, facendo proprio il cartellino del calciatore. I toscani confidano in lui per raggiungere l'obiettivo salvezza. Inoltre, nell'ultimo periodo, su Sebastiano Esposito si sarebbe fatto vivo l'interesse del commissario tecnico Luciano Spalletti. L'attaccante campano sembrerebbe essere monitorato costantemente da alcuni scout della Nazionale Azzurra.